La brucellosi o febbre ondulante o anche febbre maltese è una zoonosi ubiquitaria trasmessa dagli animali all'uomo o per via diretta attraverso appunto l'esposizione professionale sia cutanea che inalatoria che anche per via indiretta cioè attraverso gli alimenti come per esempio il burro o anche il formaggio perché questi batteri cioè le brucelli sostanzialmente sopravvivono per 3-4 mesi all'interno di questi alimenti sono dei batteri appunto molto longevi. Prima di spiegarti però bene di che cosa si tratta che cos'è appunto la brucellosi ti ricordo che questi video hanno uno scopo divulgativo quindi per qualsiasi dubbio rivolgiti sempre al tuo medico e ti ricordo anche in seconda battuta di iscriverti al canale in modo tale da non perderti alcun contenuto che pubblico sul mio canale parlo di argomenti di medicina e di odontoiatria ma anche di antropologia a scopo divulgativo. La brucellosi è endemica nel mondo e si stima che in Italia ci siano all'incirca 1500 casi all'anno e da vari indagini è emerso che più colpita l'Italia meridionale rispetto all'Italia settentrionale e in Puglia ci sono tra i 200 e 250 casi all'anno. Una volta che comunque sia che il batterio è penetrato all'interno del corpo umano quest'ultimo diffonde attraverso il sangue e la linfa per poter raggiungere i linfonodi, la milza, il fegato, i reni e il midollo osseo. Il periodo di incubazione della patologia oscilla tra 1 e 6 settimane. Chiaramente dopo questo periodo di incubazione insorgeranno i sintomi che sono la febbre, l'iperidrosi, le algie diffuse e l'astenia. Si chiama brucellosi o febbre ondulante proprio perché dal punto di vista del decorso clinico la febbre ha proprio questo decorso ondulante, cioè abbiamo 1-2 settimane di febbre e 1-2 settimane in assenza di febbre. In alcuni casi possono esserci anche dei coinvolgimenti ossei, quindi avremo delle osteiti o delle osteomieliti, dei coinvolgimenti articolari e quindi avremo delle artriti oppure del fegato e potremo avere quindi delle epatiti o della milza e quindi ci potrà essere un aumento di volume della milza, cioè la splenomegalia e anche delle infiammazioni stesse della milza. Può esserci anche un coinvolgimento del sistema nervoso centrale e dall'apparato respiratorio. Di fondamentale importanza è la prevenzione attraverso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del vaccino per i soggetti esposti professionalmente all'agente patogeno. La bonifica del latte e dei derivati sono un altro mezzo di prevenzione di fondamentale importanza proprio per evitare la propagazione della patologia. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale, condividi questo video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!